Dove hai visto l'hai preso a stendicamma? Dove hai visto l'hai preso a stendicamma? Dove hai visto l'hai preso a stendicamma? Oh! Handicampato! Handicampato! Lo dici sempre a qualcun altro Andiamoci prima prima! Stop! Ma è bello! Ora che l'hai detto non più Vediamo la famosa famiglia delle formiche Formicalis Dal bordello Formicolis Dove si giravano la massima quantità di formiche Figa Puttane Le formiche puttane Sovernight Ma non è difficile Ma fa piacere essere fatta di Sovernight 9,000 What? 9,000? Shut up Netball It's over 9,000 Some anni No 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 Grazie.